carnival analisi mensile aprile 2021 allora buongiorno a tutti dunque oggi aggiorniamo questo questa questa azienda questo strumento questo titolo che da un po di tempo che non aggiorniamo questo è uno dei titoli in assoluto che seguo di più di cui ho azioni in portafoglio da molto 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 più basso quindi direi molto bene e vi faccio vedere una cosa molto interessante poi così vi rendete conto del perché il vostro Gianluca segna livelli a caso allora guardate qua avevamo segnato due livelli di entry 8 e 15 e 16 nel caso del ritest chiaramente 15 e 16 era stato questo massimo comprato di novembre su ottobre poi il prezzo è salito è risceso avevamo segnato un target un target che era il minimo di febbraio venduto con la candela di marzo classica questa linea rossa guardate la candela di marzo di quest'anno dove si è andata a fermare un attimo di silenzio vi faccio vedere il grafico ok sarà un caso in più qua si aggiunge la cifra tonda cifra tonda che a livello psicologico fa insomma il suo lavoro ora non voglio dire che questo livello non vada non venga rotto è sicuramente andrà assolutamente rotto il prezzo andrà a 60 70 tornerà dove deve andrà dove deve andare ma in prima battuta questo è stato un muro un una resistenza un tetto in cui su cui diversi compratori hanno trovato target sicuramente quelli bravi che sapevano dove chiudere le operazioni o liquidare una parte una parte delle posizioni ora aggiorniamo un paio di livello un livello aggiorniamo questo livello quindi adesso la prossima rientri potrebbe avvenire in maniera logica su area 20 21 che è il massimo comprato di febbraio su gennaio quindi lì è di nuovo dove il mercato ha visto entrare in maniera massiccia compratori a mercato quindi abbiamo due livelli importanti 21 e poi diventa anche questo minimo interessante cioè diciamo che aspettate un attimo ok diciamo che la fascia che va da 21 a 19 40 tutta questa fascia qui e poi subito sotto abbiamo 16 per poi andare ancora più giù insomma questi livelli qui 13 insomma i primi livelli interessanti sono questi target che rimane per il momento 30 30 fino a quando il prezzo non riuscirà a quotare stabilmente qua sopra avremo sicuramente da ritracciare diverse volte tutte le volte che raggiungiamo questo livello il secondo target a scalare o meglio a salire è l'area di 43 che è il successivo minimo venduto febbraio su gennaio tutti i livelli importantissimi perché guardate qua che discesa che ha avuto il titolo quindi qui sono state posizioni pesanti ok apertura di posizioni pesanti qui ok bene quindi fantastico vedere queste cose io chiaramente qua ho liquidato già a metà delle operazioni aspettavo questo livello per ricomprare ho pazienza e quindi poco male nel senso poco male bene anzi bene aspettiamo adesso con pazienza che il titolo riscenda sull'area di 20 21 oppure qualcuno potrà dire ma se non ci andasse più se non ci va più aspetteremo che rompa questo livello che comincia a quotare stabilmente qua sopra avremo la conferma che questo titolo ha la forza per proseguire si si rientrerà sull'area di 30 che farà da quel punto da pavimento molto importante pavimento molto forte l'area psicologica di 30 dollari ci fa sicuramente da scudo quindi niente marzo è chiaramente concluso ora dovremo aspettare il mese di aprile per vedere se riusciremo a uscire da questo range dei 21 e 30 o in alto o in basso il titolo ha comprato massimi praticamente nel mese di febbraio il mese scorso e nel mese di novembre per il resto ha avuto insomma fasi mesi alterni candela verde insomma così così candela rossa l'unica cosa che io continuo a farvi notare che voglio farvi notare che non siamo ancora usciti dal range della candela di marzo dell'anno scorso tutto quello che è successo quest'anno cioè da marzo 2000 da aprile 2020 ad oggi si è svolto all'interno del range della candela di marzo che ancora quindi domina comanda dal punto di vista della strategia quindi auguriamoci che in qualche modo prima o poi si possa uscire o da qui in basso e andare a finire a zero no scherzo chiaramente oppure si potrà andare a rompere non soltanto quotando sopra questo livello si potrà andare a rompere il massimo della candela di marzo 2020 e quel punto ambire al raggiungimento del secondo target in area 43 direi che è tutto mi raccomando rieduco gli appuntamenti tutti i giorni alle 14 azionario mondiale lunedì sera materie prime venerdì sera etf non esitate a scrivere commenti e fare richieste per quello che riguarda l'analisi di titoli noi amiamo l'analisi grafica siamo amanti di questo di questo insomma approccio agli investimenti quindi attraverso l'analisi grafica e la selezione dei livelli importanti è anche un motivo per andare a conoscere anche un modo per andare a conoscere tante aziende che anche io personalmente non conoscevo quindi direi che c'è tutto di guadagnato da insomma studiare imparare ed avere un approccio insomma educativo da questo punto di vista niente mi raccomando un bel mi piace al video e a domani